Eccolo qua, Freddie Mercury. Freddie Mercury era i Queen o i Queen erano Freddie Mercury? Beh, cercheremo di scoprirlo a video e parole mercoledì 26 agosto. Poi naturalmente le canzoni dei Queen vanno ascoltate. E questo succederà il 5 settembre sera, grazie ai Celebrity. Sempre tutto al battiferro. Grazie a tutti.